unità 14.3 un esercizio per mettere subito un esercizio per mettere subito in pratica combinati i vergiucchi perché c'è stata un bel schema bene carichi sderiti allora mi compro un panino al salame ma per cui sono usciti sul salame si me lo compro per pranzo me lo compro per pranzo regalo una cravatta allo zio dove noio vedi viena kaklai che c'è richiedevo vero te prasciiti karmatis che dirà due ira giugiai lai ginta lievo regalo per copriano lievo regalo per copriano donojo jam ja ginta di no proga toro ci beviamo due birre gariamsau due alo us italicchi due alus alus c'è le beviamo belle fredde c'è le beviamo belle fredde lo vedo muo ira tas belle kasi atas belle 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 aiutane raggius alus tas belle ira vertore mas sudarant ucciaucio laesnio budvergi tasi butu molto fredde ira belle fredde l'esame è stato bello difficile bello difficile bello lungo bello pesante bene torniamo di qua porto alla zia cinque scluso se per dire gioca tenerà chiechies rose nasu tattai pencas rogesse si liene porto cinque bianche liene porto iai iu nasu pencas valtas cinque bianche toro ti stampo io quel file tau spauze su asch ta file te lo stampo a colori te lo tau gli stampo a colori stampo a colori spauvoti vi presto i miei dvd ium scolino savo ma no dvd irasius di li presto volentieri ve li presto volentieri molto bene ti restituisco i soldi che mi hai dato tau gragino pinegus curos man da vei te li restituisco oggi stesso tau iuos te li restituisco shemian pat oggi stesso ci servono due schiccio due assistenti nuovi ce ne servono due ce ne servono due ce ne servono due ce ne servono due in fretta benissimo vi presenterò la mia nuova ragazza ium prestatissio su pagin di insurius su bet itali scher yum prestatissio ma non savo noi amergina ium sia prestatissio va garelle pescente va garelle il tuo lom senelis sao pirco non si pirco divirati il nonno si è comprato una bicicletta se le comprate di seconda mano grazie se le se la e se la e compra ta di seconda mano riesce a se 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 offri una birra se 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 mi offri una birra una birra cioè se si 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 una birra se se si una birra e Finito, poi ho capo Scherzavo Scherzavo Sì, dai via una seconda Pazzo domani Pazzo domani Manda ai nonni le foto delle nozze Su Xenelans Vestuvi un'altra Mandagliele via email Mandagliele Elettronilo.com Via email, via rodo Buda Atkreidi vienzi, kad taškote Prie A reides Mandagliele Yra viena Giudis, suliepoma in osaka Iungesti ir iverdžiukai Mandagliele, šeis attis yra Imano, idavo galvoj, turėti tokius žodžius Tokių žodžių, kur kirtis Šoka dar Anksčiau negu trečio Skemuo Nuo galo. Pavyzdžiui, jeigu būtų Vietui mandagliele, veiksmai žodis Gamena Gamink Fabrika Išėto žodis Fabrika lielė Su, kirtiu, penta me Nuo galo, škime nė Atrela, atikreġis, kas Finito